Amici di Max Davies, eccoci qua! Oggi trasferta francese, siamo a Marsiglia e questo è il tir di Eros Ramazzotti, battito infinito World Tour 2023. Il nostro lavoro oggi è quello di bannerizzare questi bellissimi track, arrivano da Roma e hanno in pancia tutta la strumentazione di Eros Ramazzotti e Max Davies c'è per fare questo avvestimento. Vai ragazzi, sette bilici, sette lavori, grande, grande, grande operazione.